Sport e cultura, il Rochi Marciano, Assessore Paolucci, è anche questo? Sì, un'idea davvero vincente che ha messo in campo l'amministrazione comunale di Ripatiatina e che in questa mattinata, per presentare la nuova edizione, ulteriormente investe e rappresenta a tutti noi un'ulteriore novità, quella di fare rete attorno al tema, al grande tema dell'immigrazione, insieme alle altre amministrazioni comunali, agli altri premi che traggono, diciamo, spunto dal tema dell'immigrazione, ma poi investono sullo sport, sulla cultura, sul turismo, sulla crescita della nostra comunità regionale e che vedono la regione davvero in prima fila. Di anno in anno ha accompagnato questi eventi e in questa annualità l'ha accompagnata anche con una, diciamo, dotazione finanziaria perché l'idea è quella di far crescere festival e appuntamenti come questi per poter far crescere la nostra comunità. Ormai ci siamo, manca davvero poco all'edizione 2018 del premio Rochi Marciano, questa mattina la presentazione qui all'Aurum di Pescara, una settimana di grandi eventi per una manifestazione che di anno in anno, Sindaco, cresce sempre di più. Sì, proprio questo, sì, di anno in anno cresce di più e quindi abbiamo in questi due anni, diciamo, inserito il tema dell'arte, della cultura e quindi dello sport. Così come abbiamo detto questa mattina, noi vorremmo che in questo premio Rochi Marciano vorremmo far veicolare il tema della migrazione, che è importantissimo perché partiamo da questo. Noi abruzzesi, una regione che abbiamo avuto, diciamo, parenti, amici che sono emigrati, quindi il tema è questo. Io sono contento di questa quattordicesima edizione anche perché abbiamo, diciamo, allargato di una settimana e abbiamo inserito su alcune serate temi importanti sulla cultura. Finalmente stiamo convincendo la regione, l'attore principale, insomma, nostro, che deve aiutarci per andare oltre quel discorso di ripatiatina, oltre il premio Rochi Marciano, quindi noi non vogliamo che il premio Rochi Marciano rimanga limitatamente a ripatiatina. Vorremmo anche, come abbiamo detto, anche con altri colleghi sindaci di Pizzo Ferrato, di Torrecchia e di Taranta Perigna, di fare sinergia.